Ciao a tutti ragazzi, l'Essia e lei Martina e oggi c'è un nuovo video! Come avrete detto sicuramente dal titolo, oggi torniamo con i video di Skerry Teacher. Infatti, dato che comunque fino ad ora abbiamo risolto tutti i livelli appunto del primo capitolo, tra virgolette, adesso ne potrete sbloccare di due tipi, quello di Halloween e quello di... diciamo delle festività più o meno. Io potete sbloccarli tutti e due. Io ho sbloccato prima quello delle festività, tra virgolette, e poi dopo sbloccherò quello di Halloween. Che è la casa molto diversa perché appunto... Sì, è un po' diverso, poi comunque vedrete. Per questo, con quello là di queste festività, perché non sono comunque tutti sulle festività, però alcuni, ne abbiamo appunto risolto i primi due livelli, perché ne sono in tutto cinque, e ne abbiamo risolto i primi due in questo video che vi faremo vedere oggi. Per quanto riguarda gli altri faremo appunto una seconda parte, domenica prossima, oppure vabbè, vedremo. E poi, dopo aver finito questo secondo capitolo, diciamo così, faremo anche quello di Halloween. E niente, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo! Bene, iniziamo. Allora, questi sono appunto il capitolo 1, quello che abbiamo già fatto tutti nei nostri video. Comunque, quello di oggi è questo qui con le uova di Pasqua, ok? Quello con le uova di Pasqua. Ok, questo, vabbè, dice un po' di cose in inglese che, vabbè, non abbiamo capito proprio tutto. Però, vabbè, l'importante è esserci riusciti. Allora, iniziamo subito qua. C'è una sorta di intro, se si può dire così, dove possiamo notare la maestra, appunto, che mette il veleno nelle uova di Pasqua. Ok, a questo punto, vabbè, parla sempre in inglese, raga, vabbè. Iniziamo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare sopra. Quindi, io ci vado attraverso questa scala qua. Allora, andiamo, appunto, sopra. Ok, entriamo dalla finestra, tanto, vabbè. E andiamo in questa stanza, qui, dopo la palestra. E dobbiamo prendere il taglierino, questo qui, e lo scotch che si trova su questo mobiletto. Dopodiché, possiamo anche uscire, scendere giù, e andiamo nel garage. Io sono causata un albero, ma vabbè, comunque andiamo nel garage. E prendiamo questa sorta di paint, cioè ci dovrebbe essere questa cosa viola, insomma. Ok, adesso andiamo, andiamo, andiamo. Ah, sì, dobbiamo andare nel soggiorno. Era un po' indecisa se andarci o meno adesso, perché comunque la maestra è giù. Però, appunto, ora stava venendo, quindi mi sono un attimo allontanata. E, scusate, ora passerà un po' di tempo, perché... Ok, ok, qua mi sono resa conto che stava salendo. Quindi sono potuta andare, però qua stavo aspettando che salisse. Ok, vi rinvio appena, diciamo, si allontana un po'. Intanto volevo dirvi che sotto questo tappeto c'è una chiave verde, però vabbè, ok. Dai, su, maestra, vattene, su, grazie. Ok, ci mette davvero un po', però vabbè. Ok, credo sia allontanata abbastanza, quindi vado, sì. Allora, a questo punto dobbiamo andare qui, dove c'è questo tavolino, vicino alle scale. Dobbiamo prendere questa sorta di... questo secchio verde, insomma, no? Poi andiamo in cucina e dobbiamo fare un processo, ovvero, prima il taglierino. Indichiamo quello viola, poi mettiamo taglierino, poi slime, poi lo scotch e infine la pittura. Allora, a questo punto dobbiamo solo andarcene e aspettare che se ne accorga. Io vado direttamente fuori dal cancello, così non mi può prendere e... niente questo. Ok, in questo modo abbiamo messo lo slime dentro l'uovo di Pasqua, quindi quando lei andrà, appunto, a presentarlo, uscirà tutto lo slime. Comunque, ora vi rinvio appena, appunto, lo noterà, diciamo così. Ok, sta scendendo in cucina ed ecco qui la sua reazione. Dai, ok? Ecco, come vedete, lo sta presentando, appunto, come vi ho detto. E ora lo aprirà, qua ci sono anche i suoi alunni e il suo marito. Ora lo aprirà e uscirà lo slime, diciamo. Quello che ho messo io, quello del barattolo verde. Boom. Ecco qua. E niente, il primo vidello è completato. Top. Ed ecco qui che ho vinto. Perfetto, il secondo livello è questo qui del trampolino, se si può definire così. Qua ci sembra della scalia, però vabbè, non facciamoci caso. Ok, e continuiamo. Sì, 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 perfetto. Ok, stavolta la specie di intro che dico sempre io, è la maestra che immagina di essere con suo marito su questo trampolino, che noi andremo a distruggere in questo livello. Beh, qua c'è tutta la scena amorosa, ma lasciate stare. Ok, a questo punto tocca a noi. Allora, prima cosa da prendere, la pianta. Sì, proprio quella. Allora, si trova qui, questa pianta qui. Ok, ok, sì, sto registrando. Scusate. Questa pianta qui che sembrerebbe tipo un cactus. Ok, dopodiché dobbiamo andare sopra. E io ci vedo sempre attraverso la scala perché, boh, mi è più comodo. Apriamo sempre la finestra e andiamo in questa sala qui, dopo la palestra, dove c'è sempre il taglierino. Dobbiamo prendere. Ok, dopo aver preso il taglierino, dobbiamo proseguire andando di qui e ancora di qui. E ancora una volta, sempre dritto. Dopodiché usciamo da questa porta e quella accanto, quindi questa qui di fronte. Ok. Prendiamo questa bomboletta blu, mi raccomando, ragazzi, quella blu perché ci sono anche quelle degli altri colori, negli altri armadietti comunque. Ok, dopo aver preso queste tre cose, andiamo dove c'è il trampolino. Io ora vi faccio subito vedere dov'è. Qua, oddio, stavo un attimo capendo dove era la maestra. E se aveva intenzione di salire o scendere o in giardino, insomma, vabbè. Ok, allora, il trampolino si trova vicino alla piscina, ora vi faccio vedere. Allora, andate vicino al trampolino che appunto è subito dopo la piscina. Dopodiché prendete il taglierino e fate un taglio cliccando appunto sul taglio, cioè cliccando, dovete cliccare, insomma. Ok, dopodiché inserite il cactus, lo prendete e lo posate lì. E infine, lo spray, che in realtà non è uno spray ma è un cotone azzurro. Ok, vi lascio direttamente alla sua reazione e possiamo anche notarla da qui in vicino. Ok, si è avvicinata, ve l'ho un po' schippata tutta questa parte perché ci ho messo un secolo. Ed ecco qui la sua reazione, qua sto usando sul trampolino e ora possiamo vedere che si farà malissimo. Infatti, appunto, i cactus spongono, qui potete vedere la disperazione. E niente raga, anche questo livello è finito e qua c'è anche il marito. Vabbè, vi lascio alla fine di questo livello. Speriamo che oggi vi siamo stati di aiuto perché comunque vi abbiamo invitato a fare i livelli. Speriamo che si sia capito tutto. E niente, ciao! A domenica!